Così alla borzettina, così a 4 euro. Cioè questa linea parte dai 4 euro fino a arrivare, adesso io faccio un po' una panoramica e poi dopo ci soffermiamo su quelle che vi piacciono di più. A partire con la bongoniera che praticamente ha questa scatola con, scusate tanto, è un cuore, adesso vi faccio vedere, tutto rosa, con un angelo in... Prego signora. Grazie a lei per la storia. Sì, ci vediamo.